Ben trovati da Nikos di Trevi Meteo. Mercoledì ancora una zona blanda di bassa pressione coinvolgerà molti stati dell'Europa centro-occidentale presente qui un po' d'ovest della nostra penisola e quindi tra il pomeriggio e serata altri temporali non solo a ridosso dell'arco alpino ma anche pienura padana e poi peggiore in giornata anche sulla Sardegna con delle piogge in arrivo sull'isola meglio il centro-sud. Andiamo a vedere la mappa della nuvolosità ci conferma un po' di variabilità di passaggio al centro-nord soprattutto sulla Sardegna un fronte nuvoloso in risalita dal nord-Africa. Nubi alte di passaggio anche al sud Italia ma non mancheranno delle schialite anche ampie insomma qui un po' di variabilità innocua e infine l'ultima grafica ci conferma questo peggioramento sull'isola con delle piogge poi in giornata dal pomeriggio qualche isolato acquazione temporale non solo in pianura padana ma anche su alpi e prealpi meglio altrove con temperature che proprio al centro-sud Italia saranno attorno ai 25 28 gradi. Dettagli maggiori come sempre sull'app di Trebi Meteo.